Ecco, di quanto è accaduto? Sì, sono state effettuate e sono state concluse con successo tutte quante le operazioni per la rimozione delle spolette dall'ordine. Si tratta di una bomba da 500 libre, circa 230 kg in totale, che monta due spolette, una in testa e una in coda. Le spolette sono state rimosse e quindi l'ordine è stato messo nelle condizioni di poter essere trasportato per il successivo brillamento che verrà in casa. Perché il ritardo di alcune operazioni? No, non abbiamo registrato nessun ritardo, le operazioni sono andate così come erano state pianificate, nelle tempistiche che erano state programmate inizialmente. Quante ore ci sono volute per le operazioni? Allora, le operazioni si sono svolte nell'arco di tre ore, quelle relative al despolettamento, dopodiché ci sono state le operazioni di preparazione per il trasporto che hanno preso un'altra retta. Ecco, nel video abbiamo visto dei robottini, avete utilizzato qualche strumento tecnologico, soltanto è stata, diciamo, perizia manuale degli artificieri? Sono state utilizzate tutte quante le attrezzature che sono in dotazione agli artificieri dei nostri reparti del genio guastatori e non altre. Quali sono? Il robottino è uno strumento che in questo caso viene utilizzato per effettuare il controllo a distanza delle operazioni che vengono effettuati. Rispetto ad altre esperienze che avete avuto, questo ha avuto qualche caratteristica diversa in particolare? No, no, diciamo, è un intervento che è stato realizzato con le solite procedure, con i soliti standard di sicurezza, è, diciamo, tipico. In che modo ve l'ha fatta brillare la sicurezza e in che tempo? Allora, sono state realizzate delle predisposizioni di sicurezza all'interno della cava dove era fatto brillare, quindi sostanzialmente una carica esplosiva che farà esplodere per simpatia l'ordigno e con delle, diciamo, predisposizioni di sicurezza che contengono l'effetto anche nella cava per, diciamo, preservarci dei quadri in cui c'è anche in questo quadro. In questo momento l'ordigno si sta trasferendo verso questa cava che si trova a Lucera, quindi nelle prossime ore verrà il quadro brillamento, dopodiché potremo dire l'operazione completamente proposta. Grazie.